Un bonus da 200 euro per pensionati e lavoratori con un reddito fino a 35.000 euro è una delle misure annunciate dal Premier Mario Draghi per supportare gli italiani nelle difficoltà legate al caro prezzi. Si tratta di un contributo, una tantum, destinato a 28 milioni di famiglie che nel caso dei pensionati verrà erogato dall'Inps nel mese di luglio. A far avere il bonus ai dipendenti direttamente in busta paga ci penseranno tra giugno e luglio i datori di lavoro che a loro volta potranno recuperare la somma al primo pagamento di imposta utile. Gli autonomi invece potranno attingere da un apposito fondo che verrà creato a breve. Inoltre, nello stesso Consiglio dei Ministri, il Governo ha deciso di prorogare per altri tre mesi il bonus sociale sulle bollette. Il beneficio viene steso a luglio, agosto e settembre ed interessa tutti i nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro o non superiore ai 20.000 per le famiglie con almeno 4 figli a carico. L'altra novità è che il bonus è diventato retroattivo quindi che ha già pagato le fatture di luce gas senza lo sconto ma rilasciato una dichiarazione ISEE che gli dà diritto al contributo riceverà un rimborso automatico nelle bollette successive invece nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato effettuato l'importo verrà rideterminato dunque un provvedimento che farà tirare un sospiro di sollievo a tante persone che in questi mesi hanno dovuto fare i salti mortali pur di non risultare utenti morosi o inadempienti. Penso che sia una cosa buona perlomeno diamo un pochino di più per spendere a queste persone che hanno un reddito basso insomma. Lei quanto ha ricevuto ultimamente di gas, luce? No, io non ho avuto grossi aumenti anche perché ho un consumo rispetto all'anno scorso di poco più alto poi adesso ancora devono arrivare le ultime bollette ma diciamo siamo lì ecco a molti miei amici sono arrivate delle belle belle stangate sì, belle stangate comunque forse non dovrebbe essere una cosa sporadica ma più frequente? Diciamo del bonus sì potrebbe essere una cosa un po' data lasciata nel tempo ecco non data e poi dimenticata insomma ecco Comunque intanto è importante che venga data sì, è importante che venga data anche perché diamo possibilità di muovere un po' il mercato insomma sì, l'ho sentito parlare Cosa ne pensi? Contenta? Beh, se mi arrivassero sì, devo dire Ma dicono nel mese di luglio? La qualità dopo che sia una cosa buona o meno sai a volte non lo so Quindi intanto un passo iniziale Diciamo sì, continuare a dare soldi senza creare poi invece altre attività che invece producono soldi perché continuiamo bonus 110, ci sono tante cose che vengono, non lo so smuovono tanto lavoro comunque 200 euro in più io che sono artigiano la pressione è bassa, farebbero comodo Di lei quanto ha ricevuto di bolletto ultimamente? Ha ricevuto delle cifre molto alte rispetto a prima? Sì, il gas 600 euro in più e dunque rateizzate tutto quel che vuoi però sono tante Ma sarà che ce li danno? Lei ancora non lo sa Io l'ho letto su internet e è una bella notizia però speriamo A lei quanto gli è arrivato di luce, di gas, molto alte le bollette? No, perché ho fatto un contratto Io ho bloccato l'anno scorso giugno Adesso se non ci danno il gas cosa dobbiamo fare? Io ho messo sull'aria condizionata, metto la pompa di calore e vado con la luce Metto i pannelli, tanto Soddisfatta comunque se ce li avrà? Eh va bene, benvengano insomma Grazie a tutti Grazie a tutti.